E' stata effettuata un'operazione da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri che ha dato esecuzione a provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Napoli su richiesta della DDA nei confronti di oltre 50 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico internazionale e allo spaccio di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, impiego di denaro di provenienza illecita di ciclaggio, tutti reati aggravati da finalità mafiose. L'inchiesta ruota attorno alla figura di Bruno Carbone, latitante che da tempo si è stabilito all'estero, che avrebbe avuto un ruolo di broker per l'acquisto di cocaina attraverso contatti con un cartello colombiano. La droga veniva poi consegnata a organizzazioni di trafficanti attive in una vasta area del napoletano. Nell'operazione è stato arrestato con l'accusa di partecipazione all'organizzazione di trafficanti anche un brigadiere dei Carabinieri in servizio a Castello di Cisterna, ritenuto un complice dei trafficanti.